Ora, voi dovete immaginare il commento tipico in questo momento del, diciamo, pensiero negativo. Cosa possiamo dire di negativo di quest'opera? Abbiamo avuto un'attenzione, avete avuto un'attenzione di cui personalmente vi sono grato sulla sicurezza del lavoro, che è una cosa che rende orgogliosi di far parte del Paese Italia, perché avete avuto un'attenzione sulla sicurezza del lavoro straordinaria. Qual è l'unica cosa che possiamo dire a quest'ora? Che ci sarà qualcuno che è in coda, ora, e che dice quanto chiacchiera il Renzi e ci blocca l'inaugurazione? Perché, allora io vi faccio una proposta prima di chiudere. Intanto vorrei segnalare ai giornalisti che la coda sull'autostrada panoramica c'è da sempre, in particolar modo nei giorni di Natale. Quindi non è che queste persone che sono qui hanno prodotto i 10 chilometri di coda di stamattina. C'erano perché siamo al 23 dicembre. È esattamente l'opposto. Abbiamo fatto quest'autostrada per non aver più la coda. Però, siccome da quando noi pigiamo il tasto via a quando vedremo scorrere le prime macchine, passerà un quarto d'ora, 20 minuti, più o meno,